Centri medico-fisioterapici Salute OK. Da vent'anni leader nell'ossigeno-zonoterapia in associazione a tecniche fisioterapiche d'avanguardia. Fisioterapia, ossigeno-zonoterapia, riabilitazione estetica, piani terapeutici personalizzati. Presente con numerosi centri in Italia, Salute OK opera con equipe specializzate e protocolli esclusivi testati dal Centro Studi Ricerca e Sviluppo. Una storia di successo che ha portato il suo fondatore, professor Dario Apuzzo, ad investire in un ambizioso progetto di franchising. Per informazioni chiama il numero verde 800 199 755 o visita il sito www.saluteok.it Salute OK. Professionisti. A servizio della tua salute. Grazie a tutti. Buonasera e ben trovati alla terza puntata del terzo ciclo di Salute OK Medicina e Benessere. Una trasmissione ormai nota, cura del nostro professor Dario Apuzzo. Buonasera. Buonasera. Come avete visto dal titolo, questa sera parleremo delle articolazioni, di come curarle e di come difenderle. I dolori articolari sono davvero una condizione molto comune, caratterizzata da una sensazione di dolore che viene avvertita all'altezza delle articolazioni. Quindi, ad esempio, all'altezza dell'anca, della schiena, delle caviglie, dei gomiti, delle ginocchia e delle spalle. Cercheremo di comprendere quali sono le cause e trovare i modi più efficaci per intervenire con una precisa diagnosi e terapia. Partiamo, professor Apuzzo, parlando appunto delle articolazioni. Che cosa sono? Le articolazioni sono dei sistemi che mettono in contatto, in comunicazione, due ossa, consentendo una funzione. Una funzione che è generalmente il movimento, che può essere più o meno rappresentato a seconda del tipo di articolazione, oppure una funzione più di sostegno. Esistono alcune articolazioni che hanno un grado di mobilità nettamente inferiore rispetto ad altre. Sono quasi addirittura immobili. Ad esempio, le articolazioni tra le ossa craniche, oppure le articolazioni del carpo, cioè praticamente la parte della mano, del dorso della mano, o del tarzo, la parte del dorso del piede. Queste sono tutte articolazioni, diciamo, rigide, praticamente immobili, che hanno appunto una funzione di sostegno. Poi abbiamo articolazioni che via via sono sempre più mobili, fino ad arrivare alle cosette di artrosi, che hanno una mobilità veramente elevata, come quella della coxofemorale, la scapolomerale, quindi l'anca, la spalla. Sono articolazioni che hanno al proprio interno anche del liquido asinoviale, è una membrana asinoviale, è un liquido asinoviale che facilita questo movimento di scorrimento tra i capi articolari cosiddette. Abbiamo circa 360 articolazioni nel nostro corpo, alcune molto piccole, altre grandi, e sono fondamentali perché consentono il movimento e sono piuttosto delicate, quindi facilmente possono andare incontro a fenomeni di usura e laddove si verifica un trauma possono recuperare l'integrità con difficoltà. Per esempio una frattura, se interessa la parte dell'osso che è all'interno dell'articolazione, una cosiddetta frattura intra-articolare, avrà una difficoltà sicuramente superiore rispetto a una frattura extra-articolare nel rimarginarsi, nel ricalcificarsi. E vale a dire l'articolazione avrà difficoltà a recuperare la propria mobilità. Ecco perché oggi abbiamo pensato di fare una trasmissione dedicata interamente alle articolazioni perché vanno tutelate, nel senso che vanno tenute sotto controllo. Molto spesso noi non sappiamo nemmeno di avere delle limitazioni articolari e quindi oggi insegneremo alcuni semplici movimenti dei test di autovalutazione per vedere se effettivamente le nostre articolazioni principali sono funzionanti oppure dobbiamo suonare un campanello d'allarme perché le articolazioni, se lasciate a sé, non curate, tendono a ridurre progressivamente la loro mobilità fino ad arrivare a delle vere e proprie rigidità. Quali sono le patologie che colpiscono le articolazioni? La patologia per eccellenza è l'artrosi. L'artrosi colpisce chiaramente le articolazioni attraverso una serie di fenomeni cosiddetti di rimaneggiamento cartilagineo perché le articolazioni hanno una superficie che è rivestita di cartilagine che serve appunto per facilitare il movimento e queste artrosi cominciano i primi segni già dopo i vent'anni di età. Quindi può essere più o meno rapida l'insorgenza di queste artrosi a secondo del tipo di soggetto del paziente se queste articolazioni sono eccessivamente sfruttate oppure se sono state traumatizzate. Ad esempio un'articolazione che va incontro a lussazione cioè va a dire a perdita del contatto articolare tra un capo articolare e l'altro e sono articolazioni che più facilmente prima sicuramente andranno incontro a fenomeni di artrosi ma anche altre patologie come quelle più prettamente infiammatorie come l'artrite e quindi l'artrite reumatoide l'artrite psoriasica sono delle alterazioni veramente dove la componente infiammatoria è molto corposa, molto evidente e rispetto all'artrosi cambia molto perché l'articolazione si presenta più gonfia, tumefatta, rossa, dolente anche alla superficie, al contatto addirittura con gli abiti, col tessuto è molto dolente e anche in quel caso la terapia è più complicata, più complessa. Per quanto riguarda l'artrosi anche in questo caso purtroppo si tratta di patologie degenerative per cui non si verifica mai una restituzione di integrum o comunque una regressione della sintomatologia proprio della patologia a livello proprio organico e quello che si può fare attraverso la terapia è migliorare la sintomatologia però dobbiamo sapere che una volta che si è instaurato il processo degenerativo purtroppo questo potrà solo andare avanti e mai tornare indietro. È vero professore che questo tipo di malattia hanno una maggiore incidenza nei paesi industrializzati? Sì, c'è questo tipo di statistica che dimostra questo aspetto verosimilmente potrebbe essere correlato anche allo stile di vita uno stile di vita più frenetico dove sostanzialmente c'è poco spazio per il rilassamento del corpo e quindi delle articolazioni le articolazioni se c'è una tensione muscolare sono anch'esse soggette a questo alla tensione, all'irrigidimento per cui si muoveranno di meno abbiamo meno tempo per fare attività fisiche attività appunto di mobilizzazione anche questo oggi cercheremo di farvi vedere alcuni semplici esercizi da poter fare a casa sul luogo di lavoro perché occorrono veramente pochi minuti ma magari questi pochi minuti ci consentono di mantenere l'elasticità di queste articolazioni Quali sono i trattamenti che ci consiglia in causa appunto di questa patologia? I trattamenti dipendono chiaramente dal tipo di diagnosi che abbiamo quindi nel caso di una patologia prettamente infiammatoria i trattamenti saranno più di tipo sistemico quindi mi riferisco alle artriti in particolar modo quindi trattamenti sistemici con antinfiammatori o anche un trattamento del sistema immunitario perché molto spesso queste patologie sono sottese da disturbi di tipo autoimmunitario ma addirittura problemi di tipo metabolico con la gotta quindi il deposito di acidi urici quindi sali di acido urico e in questo caso vanno trattati sistemicamente cioè complessivamente con dei farmaci che vengono presi per OS o comunque che interessano l'intero organismo per quanto riguarda invece patologie più localizzate come l'artrosi in questo caso possiamo intervenire attraverso delle infiltrazioni di acido ialuronico ad alto peso molecolare che ha una funzione lubrificante e nutriente della cartilagine e noi consigliamo anche un abbinamento con l'ossigenozono terapia in questo caso per esempio stiamo vedendo una applicazione intraarticolare con una miscela di ossigenozono perché è molto valida? perché l'ossigenozono può essere introdotto all'interno dell'articolazione come ora vedremo senza alcun rischio non andiamo a sovraccaricare l'articolazione di farmaci ricordiamo che questo tipo di infiltrazioni possono essere fatte anche con il cortisone però il cortisone a lungo andare danneggia l'articolazione danneggia i tendini danneggia le strutture fibrocartilagine può essere fatto ma occasionalmente e solo diciamo in casi veramente acuti per cui in questo caso invece andando ad utilizzare una miscela naturale di ossigenozono non andiamo assolutamente a danneggiare l'articolazione ma anzi andiamo a stimolare l'ossigenazione e quindi la vascularizzazione e l'apporto di sostanze nutritizie che facilitano anche la restituzione del tessuto infiammato nel nostro protocollo che consigliamo noi combiniamo delle infiltrazioni con ossigenozono alternandola delle infiltrazioni con l'acido ialuronico e anche dei trattamenti diciamo di fisioterapia che poi vedremo di immobilizzazione oppure delle piccole punturine sottocutanee quindi cosiddette peri articolari sempre con l'ossigenozono come per esempio vediamo adesso in questo caso l'articolazione è un'articolazione del gomito che viene molto spesso interessata nei giocatori per esempio di tennis la cosiddetta epicondilite cioè il gomito del tennista in questo caso noi possiamo fare delle piccole punturine superficiali sottocutanee che possono andare a sfiammare la parte oppure anche un pochino più in profondità raggiungere proprio l'articolazione in genere combiniamo un'azione profonda ad un'azione superficiale i risultati sono molto interessanti Benissimo, ora facciamo una breve pausa rientriamo tra pochissimo e vediamo poi gli esercizi che possiamo fare Ossigena la tua bellezza con i prodotti Salute OK prodotti esclusivi nati dall'esperienza medico-scientifica dei centri Salute OK la loro formula a base di ossigeno ozono si prende cura della tua pelle in modo naturale e delicato prova le proprietà dell'ossigeno ozono riattivazione della circolazione ossigenazione dei tessuti rigenerazione cellulare numerosi prodotti a disposizione del tuo benessere visita il sito www.saluteok.it Siamo rientrati in studio dunque professore si è posizionato vicino al lettino abbiamo appunto la nostra ospite che è la signora Marta Maria Magda che è fisioterapista fa parte appunto della sua equipe di Milano con lei vedremo esercizi mi pare appunto di comprendere vediamo che c'è appunto il lettino si vedremo in particolar modo due tipi di movimento un movimento che servirà per la cosiddetta autovalutazione quindi il paziente facendo questo tipo di movimento potrà valutare il grado di articolarità in questo caso stiamo valutando l'articolarità della cervicale il paziente come dicevamo prima è molto importante che si renda conto dello stato delle sue articolazioni e spesso questa parte non viene diciamo trattata per bene perché il paziente tende ad essere superficiale a diciamo soprassedere a dei piccoli fastidi e quindi poi si ritrova ad una situazione di difficoltà in questo caso per esempio andando a destra e a sinistra il paziente si può rendere conto se c'è una certa simmetria prendendo dei punti di riferimento ad esempio sulla parete anteriore può vedere se riesce a raggiungere un certo livello della parete sia a destra che a sinistra oppure ruotando il capo a sinistra e a destra possa avere un campo visivo più ampio da una parte rispetto all'altra ovviamente l'asimmetria di un campo visivo diciamo evidenzia un problema vediamo adesso alcuni esercizi che può fare il paziente per mobilizzare la colonna vertebrale questi li può fare tranquillamente da solo a domicilio raccomandiamo anche 5 minuti 10 minuti al giorno sono sufficienti in questo caso stiamo tirando in avanti la colonna cervicale con estrema cautela perché bisogna evitare di avvertire dolore in questo tipo di esercizi che vi stiamo mostrando tutti questi esercizi vanno fatti fuori dal dolore cioè il paziente deve fare il movimento liberamente questo è un esercizio un altro esercizio invece è quello della torsione come vedete il paziente è supino e ha un braccio, una mano dietro il capo che in un certo senso accompagna un pochino questa rotazione da un lato e dall'altro facilitando il movimento abbiamo ancora un esercizio che è quello del tirare il mento in su e poi in giù in questo caso facciamo un movimento di estensione flessione del capo e sempre fuori dal dolore che ci consente di elasticizzare il più possibile la cervicale poi abbiamo ancora un altro esercizio che è quello di una contrazione cosiddetta isometrica e cioè vale a dire con la mano sotto il capo andiamo a schiacciare un pochino la mano stessa tenendola schiacciata per 5-6 secondi e poi rilasciamo in questa maniera noi andiamo a contrare la muscolatura posteriore senza esagerare ma facciamo diamo uno stimolo alla muscolatura cosiddetta cervico-nucale e quindi diciamo rafforziamo la colonna cervicale vediamo adesso un esercizio di autovalutazione delle spalle il paziente si mette in questa posizione e prova a toccarsi le due mani dietro la schiena prima da un lato e poi dall'altro valuta in questa maniera se l'articolarità è completa e simmetrica oppure si prova un altro tipo di movimento di adduzione delle spalle anche in questo caso il paziente valuta se il movimento è completo se avverte degli scrosci dei rumori articolari a livello delle spalle oppure se per esempio non riesce a completare completamente l'adduzione cioè praticamente un braccio riesce a portarlo vicino all'orecchio e l'altro no questi sono dei segnali da cogliere al volo perché vuol dire che qualcosa non va vediamo invece degli esercizi che possiamo fare per le spalle il primo molto semplice è pancia sotto mettendo un piccolo spessore sotto la fronte e con le braccia aperte ad ale di gabbiano facciamo dei movimenti con i polsi come vedete flessi quasi a 90 gradi e tiriamo indietro le spalle questi movimenti vanno fatti molto lentamente in un senso e nell'altro proviamo poi lo stesso tipo di movimento facendo le braccia portandole in avanti quindi elevando le braccia e lo stesso portandole indietro questo ci consente di lavorare molto sulle articolazioni scapolo-omerali questa è una valutazione e una serie di esercizi per le spalle passiamo adesso ad una valutazione della colonna vertebrale in generale questo è un esercizio è un test di valutazione da fare con estrema attenzione nel senso che il paziente va in avanti assumendo questa posizione senza esagerare questo ci serve per capire se la flessione anteriore del tronco è sufficientemente valida e ovviamente nel momento in cui noi avvertiamo delle sensazioni di tensione di dolore o di limitazione vuol dire che abbiamo qualche problema idem per la rotazione quindi da un lato e dall'altro è facilmente valutabile questa perché perché con lo sguardo andiamo a vedere la parete che si trova dietro di noi se da un lato riusciamo a vedere un certo punto della parete fino a un certo punto della parete dall'altro dobbiamo poter fare la stessa cosa ok per quanto riguarda la mobilizzazione della colonna cervicale facciamo un esercizio che è il classico esercizio del gatto praticamente dove noi cerchiamo di curvare la colonna in questa maniera e poi cerchiamo al contrario di allungarla come vedete noi evitiamo di andare in iperestensione molti fanno una iperestensione che però alla fine risulta dannosa per la schiena noi dobbiamo raggiungere diciamo una posizione parallela con il suolo questo è uno degli esercizi che possiamo fare per allungare la colonna vertebrale oppure una leggera estensione in questo caso andiamo a elasticizzare il dorso e anche un pochino la lombare non bisogna mai esagerare con la estensione del tronco perché in questo caso andremo a far contatto delle vertebre lombosacrali nella parte posteriore e questo potrebbe creare una infiammazione veniamo adesso a valutare lo stato delle anche questo è molto importante perché le anche spesso è un movimento che magari non troppo spesso valutiamo ma mettere le piante dei piedi a contatto e allargare le ginocchia ci consente di fare una valutazione del range articolare ed in particolar modo sempre il solito discorso di simmetria quindi nel caso in cui riuscissimo a extraruotare cioè allargare un ginocchio quindi un'anca di più rispetto all'altro lato vuol dire che qui abbiamo dei problemi a livello articolare problemi non necessariamente possono essere proprio legati all'articolazione in sé per sé potrebbero anche essere problemi muscolari per esempio della muscolatura duttoria ma comunque vanno studiati vanno indagati vediamo adesso alcuni esercizi di mobilizzazione delle anche molto importanti perché l'anca è un'articolazione particolare un'articolazione che chiaramente è soggetta a grande fatica viene scaricato tutto il peso corporeo del tronco sull'anca e quindi va in un certo senso curata attraverso ad esempio degli esercizi di flesso estensione dell'anca ma anche degli esercizi di rotazione cioè si fanno delle circonduzioni lentamente prima in senso orario e poi in senso anti-orario poi la stessa cosa possiamo fare adesso con il ginocchio flesso e con il gomito sul ginocchio possiamo andare a strecciare allungare la muscolatura abduttoria dell'anca quindi soprattutto il gluteo il tensore della fascia lata che è un altro muscolo che ha questa azione di abdurre l'anca e molto spesso tende ad essere contratto e a limitare contribuire la limitazione del movimento quindi dal lato e dall'altro esattamente il tronco come vedete viene ruotato nella direzione opposta e quindi in questo caso oltre a strecciare la muscolatura abduttoria dell'anca andiamo a strecciare anche il tronco un altro tipo di esercizio possiamo fare pancia sotto quindi in posizione prona in questo caso andiamo a fare un lavoro di elevazione della della coscia e quindi dell'anca quindi una retropulsione che può essere fatta sia con il ginocchio flesso a 90 gradi e sia con il ginocchio esteso la gamba estesa anche in questo caso andiamo a lavorare l'anca come vedete sono degli esercizi molto semplici e anche diciamo molto rapidi intuitivi che però ci consentono di mantenere una certa elasticità delle articolazioni in questo caso quindi vi abbiamo fatto vedere delle articolazioni principali quelle della cervicale della colonna vertebrale delle anche e delle spalle ma per esempio le articolazioni del polso anche sono molto importanti per cui anche in questo caso il consiglio di fare degli esercizi deve essere quotidiano c'è un tipo di artrosi molto diciamo frequente e purtroppo molto dolorosa che è la rizzoartrosi la rizzoartrosi interessa il pollice in particolar modo quindi a questo livello c'è uno sviluppo di artrosi tra l'articolazione del trapezio del metacarpo e questa spesso è legata ad un'attività lavorativa ed è molto invalidante perché voi sapete che il movimento del pollice interviene in tutti praticamente in tutte le attività quotidiane e quindi la presenza di un forte dolore a questo livello è fortemente limitante quindi per contrastare prevenire questa rizzoartrosi la cui cura peraltro è anche abbastanza complessa movimenti costanti tutti i giorni delle articolazioni questo è diciamo un quadro che ho cercato di fare il più chiarissimo possibile per dare alcune dicevamo professore sono esercizi molto semplici che però vanno fatti in maniera molto precisa molto precisa chiaramente come abbiamo detto devono essere fatti lentamente in assenza di dolore in maniera costante quindi quotidianamente e diciamo tutti i giorni cercare di farlo ma tanto è un discorso di abitudine 5-10 minuti al giorno o alla mattina o alla sera e diciamo le articolazioni sono preservate naturalmente non abbiamo detto una cosa fondamentale che chiaramente il peso della persona deve essere tenuto sotto controllo perché un sovrappeso non fa altro che andare a sovraccaricare le articolazioni e quindi accelerare i processi di usura e quindi di artrosi benissimo professore sappiamo che nei protocolli di salute ok vengono utilizzati dei prodotti davvero esclusivi ci può consigliare prodotti per combattere o prevenire appunto il dolore alle articolazioni noi abbiamo dei prodotti a base di ossigeno ozono che è un po' il nostro cavallo di battaglia perché è una terapia che ci dà veramente dei grandi risultati una terapia naturale che ripeto nelle articolazioni come abbiamo detto prima ci dà delle soddisfazioni notevoli abbiamo quindi creato dei prodotti da far utilizzare al paziente al proprio domicilio a base di olio ozonizzato per cui non solo noi diciamo durante le terapie facciamo applicare facciamo delle mobilizzazioni dei massaggi delle applicazioni con mezzi fisici utilizzando questo gel a base di ozono o questi oli da massaggio a base di ozono ma consentiamo e consigliamo il paziente di utilizzarlo quotidianamente a domicilio in maniera tale che possa diciamo aumentare l'azione dell'ozono che poi noi iniettiamo poi ovviamente abbiamo gli altri prodotti che sono più di natura diciamo per problemi tipo estetico quindi le creme viso il dentificio e altri invece sistemici cioè come l'acqua perozonizzata che sappiamo essere fondamentale per migliorare il nostro sistema gastrointestinale e aumentare le nostre difese immunitarie Siamo professore in periodo natalizio quindi potrebbe essere anche un ottimo spunto per dei regali Sì noi lo consigliamo ai pazienti perché diciamo sono prodotti un po' esclusivi innovativi io penso che potrebbe essere anche un'occasione per regalare un qualcosa di diverso quindi abbiamo fatto una promozione insomma dal nostro sito di e-commerce Certo e vorrei appunto ricordare questa promozione a tutti i nostri amici telespettatori per tutto il mese di dicembre è partita appunto la promozione natalizia regala la bellezza chi acquisterà i prodotti salute ok con una spesa minima di 60 euro sui prodotti ossigeno e staminali avrà lo sconto del 30% potrete anche acquistare l'Ozoacqua con uno sconto appunto sempre del 30% vi ricordo per tutto il mese di dicembre quindi affrettatevi appunto per i regali di Natale professore noi sappiamo che lei ha un'attività a 360 gradi che la impegna molto molto spesso nei suoi centri in quali città appunto li possiamo trovare attualmente i centri sono a Roma a Fiumicino a Milano a Bologna e a Crema stiamo apriendo in questi giorni e a breve apriremo anche a Genova per cui stiamo cercando di aprire dei centri seguendo dei precisi protocolli e seguendo un codice etico professionale molto rigido che contraddistingue un po' i nostri centri per cui il nostro obiettivo è quello di dare al paziente le stesse i stessi servizi le stesse caratteristiche il nostro impegno massimo in ogni centro dove lui si potrà arrecare per cui consigliamo ai pazienti che vogliano leggere qualcosa su questo tipo di patologie e di trattamenti di guardarli sul sito www.saluteok.it eventualmente cercare il centro al loro più vicino oppure mandare delle mail delle domande alle quali in genere risponderemo in tempo reale professore lei oltre ad essere medico fisiatra è anche appunto esperto in ossigeno zonoterapia e anche docente alla Sapienza Sì, alla Sapienza abbiamo iniziato un ciclo di diciamo di corsi di alta formazione per medici e per fisioterapisti proprio sull'ossigeno zonoterapia in questi giorni si chiuderanno le iscrizioni per cui se ci fosse qualche medico in ascolto interessato a questo tipo di di terapia può rivolgersi e guardare il sito della Sapienza Università di Roma dove troverà il nostro corso di riabilitazione antalgica e riabilitazione estetica abbiamo anche un corso alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione dove appunto insegno l'ossigeno zonoterapia nella riabilitazione e quindi questo è un ulteriore passo avanti diciamo per la consagrazione di questa terapia dopo tanti anni di sacrifici per cercare di farla conoscere il più possibile ormai abbiamo superato i 20 anni per cui siamo stanchi ma contenti benissimo grazie professore siamo giunti al termine anche di questa puntata prima però di chiudere vi ricordo che la promozione di cui vi abbiamo parlato prima potete trovare i prodotti in promozione sul sito e-commerce potete accedervi dal sito www.salutok.it per informazioni sugli argomenti o sul franchising è possibile chiamare il numero in sovrimpressione 800 199 755 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 il sito è www.salutok.it e l'indirizzo e-mail è info chiocciolasalutok.it bene io ringrazio dunque la professora Puzzo per essere stato con noi e ringrazio la nostra ospite la fisioterapista Magda per essere stata con noi l'appuntamento alla prossima settimana ancora all'insegna della salute con Saluteok.it medicina e benessere arrivederci a tutti i nostri spettatori 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 recupera il tuo naturale benessere con le proprietà rigeneranti dell'ossigeno ozono purifica il tuo organismo con l'acqua iperozonizzata rinforzando le difese immunitarie e migliorando la funzionalità dell'intestino scopri prodotti naturali della linea specialistica Saluteok all'ossigeno ozono dentifricio shampoo lozione gel lenitivo detergente intimo olio da massaggio olio rigenerante per la cute gel per applicazioni strumentali prodotti esclusivi per uso privato e professionale studiati per prendersi cura della persona in modo completo naturale ed efficace visita il sito www.saluteok.it